La Toscana del turismo si è incontrata a Firenze per fare il punto sul percorso collaborativo nato con i 28 ambiti turistici, con uno sguardo alla nuova stagione, facendo anche conti con l'emergenza coronavirus. Il convegno promosso da Regione Toscana, Anci e Toscana Promozione è stato un modo per dare continuità ad un percorso avviato che mette la Toscana in una posizione di vantaggio anche per quanto riguarda il superamento delle criticità attuali. In Toscana le disdette negli alberghi dopo l'emergenza coronavirus si attestano attorno al 60%, per questo l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo ha fatto un appello al governo. Abbiamo ragionevolmente a portata di mano una via di uscita, ci vorranno misure importanti a livello regionale, nazionale e forse anche comunitario, perché è un settore assolutamente rilevante della nostra economia e il danno che ha subito il sistema della recettività turistica in Toscana è assolutamente paragonabile a quello delle regioni a maggior rischio di contagio. La mia domanda sarà una risposta del governo che pur rilevando la maggiore complessità di quelle regioni estenda le misure in maniera efficace a tutto il sistema nazionale. Il metodo Toscani Together mette insieme per la prima volta i comuni in forma associata per adottare strategie nel settore del turismo, anche per far fronte a situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. I 28 ambiti, i 28 territori e le destinazioni della Toscana elaborano un loro piano di promozione di cui noi ne teniamo conto, elaboriamo un piano di promozione unitario che sia in grado di anche reagire a momenti di emergenza come questi. Quindi è un metodo di ingaggio non solo dei territori nella parte pubblica e nella parte privata ma anche di vendere al meglio la destinazione toscana sui mercati internazionali. La regione ha anche lanciato un kit informativo in se lingue pensato per i turisti che avevano in programma un viaggio in Toscana o vorrebbero venirci ma che cercano maggiori informazioni sul coronavirus nella nostra regione.